Benvenuti ragazzi, oggi voglio prendere insieme a voi tre pacchetti delle cartelle dei Pokemon cioè quella volta ho trovato Chizar, il mio bellissimo Chizar quindi se oggi non trovo niente farò stesso so di avere il mio Chizar bellissimo ma questo è bello, vabbè dai, prendiamo uno solo, c'è poco spazio ragazzi, so già che non trovarò niente vabbè, sono erogli pacchetti è aperto proprio da schifo ecco voi ragazzi one, two, three abbiamo un, beh, si vede non c'ho io ragazzi, proprio perché le ho tutte ah, oh bello, non ce l'avevo però questo mi piace ma questo no ragazzi, è medio è anche comune questo pacchetto è brutto ma non ce l'avevo come schifo no sì, quattro euro, guarda ragazzi, mi prendo un pacchetto di quattro euro per le due carte vabbè, parliamo col secondo ah dai, ha aperto alla, perfezione volevo che un'altra, ragazzi, ma è impossibile trovarlo tre pacchetti non c'è un cazzo un cacchio, scusate ragazzi è liscia ragazzi, c'è qualcosa è liscia se è liscia c'è qualcosa c'è qualcosa c'è qualcosa c'è qualcosa credo, c'è qualcosa perché è sottito liscio ehi, che cura, tu hai pacchetti no, che figata ragazzi, c'è qualcosa e c'è, c'è qualcosa allora ragazzi, come ho promesso, l'ultimo pacchetto faccio prima il mio migliore amico Carmelo scusa, il mio migliore amico